Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di spirito santo ed esclamò a gran voce, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Pace e bene a tutti voi carissimi amici che seguite il Signore dei giorni. Siamo ormai vicini alla celebrazione del Santo Natale. Con la quarta domenica di Avvento la sentiamo davvero ormai prossima. Il tempo in cui si stabilirà una nuova alleanza con Dio e vicinissimo. La liturgia ci avvicina in maniera profonda al tempo storico in cui Dio sceglie di diventare uomo incarnandosi nel grembo della Vergine Maria. Ascolteremo nella prima lettura una delle profezie più note sulla venuta del Messia. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. È il Signore che parla per bocca del profeta Michea confermando la fedeltà alle sue promesse. Questa profezia così lontana che manifesta l'attenzione e l'avvicinanza di Dio verso l'umanità diventa concreta nel racconto evangelico. La sua fedeltà è esperienza vera, concreta. Nel brano della visitazione di Maria alla cugina Elisabetta possiamo cogliere per certi versi il primo incontro nella storia fra Dio e l'uomo. Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, dice Elisabetta la Vergine Maria, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. È beata colei chi ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto. È il primo saluto espresso al Signore che viene, il primo saluto del precursore al veniente. Un momento sottolineato tra l'altro dalla grande fele delle due donne. Il Natale è imminente, carissimi amici, e dobbiamo chiederci in che modo accogliamo la venuta del Signore nella nostra vita e nella nostra storia personale. La liturgia della parola di questa quarta domenica di Avvento non solo ci fa sentire forte l'imminenza del Santo Natale, ma ci suggerisce anche l'atteggiamento giusto per viverlo. Lo stesso atteggiamento della Vergine Maria e della Cugina Elisabetta, cioè con fede e con speranza. Al di là del sentimentalismo, allora che può scaturire da questi giorni così coinvolgenti emotivamente, dobbiamo vivere nella verità questo evento che ha cambiato le sorti dell'umanità e quindi anche la mia sorte, la mia storia. Il Signore che sta per venire è colui che vince il peccato del mondo e ridona la dignità di figlio ad ogni uomo. Per la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione, noi tutti siamo stati salvati e redenti. Siate pronti, il Natale è vicino. Pace e bene e buona domenica a tutti. Pace e bene e buona domenica a tutti.